buona sera ragazzi ben ritrovati a tutti voi Felipe Anderson alto di destra Felipe Felipe palla per attenzione il tiro di immobile Murato Murato era una grande occasione bravo Felipe Anderson ha dato una grande palla immobile vi ricordiamo Kataldi e Basic al centro eh del centrocampo insieme a Milinkovic no no arbitro non era pallo questo no ragazzi un'altra papera destra coscia ragazzi in vantaggio lo spezia una papera destra coscia che è incredibile non c'ho io crede no ragazzi stra coscia che non chiama la palla non ce voglio crede ragazzi un'altra stronzata estra coscia stra coscia immobile sulla linea di porta che non esce Basic che dà per scontato che esce stra coscia Basic ragazzi non lo voglio più vedere questo qui te può giocare bene un mese due mesi ma fa le stronzate c'è poco da fare io lo ribadisco anche sul gol subito del finale del Milan io vi dico che la colpa è sì di Acervi ma perché era convinto che fosse uscito stra coscia ancora una stronzata di di stra coscia no ragazzi queste non sono cose da serie A via stra coscia vattene basta stra coscia felipe Anderson serve un'invenzione di felipe si accentra felipe felipe si si accentra oddio se li beve tutti felipe Anderson attenzione Basic attenzione felipe Anderson ancora il tiro ribattuto felipe palla alta la Lazio riprova è felipe Anderson l'unico da speranza lazari se ne beve tutti lazari lazari la palla al centro immobile il tiro parata di prove del eh la Lazio comincia comincia ad accelerare ancora bravo il movimento da solo immobile al centro per chi poi arriva Zaccani si gira ribadò attenzione palla piazzata miracolo di prove del benvenuta attenzione Mirinco vince prove del la manda in angolo grandissima percussione potentissima di Mirinco e c'è palla in angolo ragazzi attenzione mobile ma no calcio del rigore per la Lazio ancora ancora un calcio del rigore c'è il difensore dello Spezia che dice l'ho toccata il rigore giocata straordinaria di Mirincovic ragazzi sempre lui sempre lui prende pa cire mobile cire mobile il tiro dai dai ancora lui ancora bella chiusura di Patrick esci strago ma quanti aspetti fu uscì stragoscia no no Patrick perde palla contro piazzato dello Spezia no il go dello Spezia mamma mia mi sto a sentire male a gutelo gol Cataldi Mirinco e c'è di tacco ma no no palla sul fondo mamma mia ancora Lazio pericolosa angolo Lazio ma Lazio è la peggior squadra italiana non proprio una cosa indecente una società squallida ignobile solamente la storia non ci salva non ci salva il presente è schifoso dai Lazio su Maria Grazia che comincia tre partite su quattro a cominciare da questo Basic scarica per Zaccagni sta scaldando Luisa Alberto Zaccagni se c'entra Zaccagni in giro palo rete rete palo poi c'è una ribattuta di un difensore un rimpallo chi ha segnato non ho capito credo sia un'autorete ragazzi proprio dello stesso giocatore che che ci ha fatto prendere il ricore al primo tempo bel numero de Zaccagni vediamo un attimo Basic per Zaccagni out di destra Zaccagni si accentra il tiro palo no palo la palla sbatte su prove delle dentro in porta e dentro in porta ragazzi pareggio della Lazio forza ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai attenzione punizione per lo spezia non facciamo stupiraggi ragazzi eh l'abbiamo ripresa un'altra volta ci sono 40 minuti almeno compreso recupero attenzione Daniele Verde palla c'è gol dello spezia ristop incredibile ragazzi non c'è credo ragazzi ragazzi non c'è credo a quello che sta succedendo se riportate un vantaggio spezia un'altra volta un'altra volta col fatto col subito un minuto dopo non è possibile una serata clamorosa ragazzi ve lo giuro non c'ho parole guarda non c'ho parole ragazzi non c'ho parole ragazzi giusto con la Lazio Marusic alza la testa tenta addirittura il tiro palla fuori di poco immobile Zaccagni immobile Luiz Alberto palla al centro Milicovic Milicovic go 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 non balla mai non balla mai Luiz Alberto la butta in aria del rigore Milicovic fa sportellate col diretto avversario e ancora lui il sergente pareggia per l'ennesima volta 20 23 minuti alla fine fino alla fine c'ho il cuore a 2.000 ragazzi io c'è sto male per sta Lazio ci sto male per la Lazio maledizione da 50 anni ancora non ho capito che metodana regolata che qua c'è schiatto vi chiedo scusa ragazzi ma la Lazio per me è amore puro non ce la faccio a trattenermi sì l'avevo detto è vero al settantesimo era il limite per pareggiarle l'abbiamo pareggiata dai adesso per favore per favore almeno giocami 20 minuti con la testa 3 a 3 con lo spezia a 14 minuti dalla fine più reticolo la sezione risalberto proprio alzerla palla fuori non soffio risalberto allora caro sarri giocati la carta Milinkovic c'entra avanti pesante subito però no all'ultimi minuti Lazio a un passo dal vantaggio tiro vento bella attenzione 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 palo della Lazio palo di Zaccagni imbucato benissimo da Cataldi il palo della Lazio Lazio a un passo dal vantaggio Lazio a un passo dal vantaggio ragazzi palo di Zaccagni bravo Cataldi che ha dato una grande palla a Zaccagni tiro e palo immobile la difende la dà ancora Milinkovic Milinkovic che fa che fa palla fuori del soffio mamma mia mamma mia ancora Lazzari aria del rigore Lazzari 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 si accentra tiro del Lazzari ribattuta maledizione c'è un muro palla però recuperata dalla Lazio Luiz Alberto Luiz Alberto Luiz Alberto Luiz Alberto oddio immobile il tiro ribattuta miracolo il tiro attenzione a cerbi a cerbi il destino vuole in ganti a cerbi me sento male aiuto il gol da cerbi il gol da cerbi il gol di a cerbi ragazzi sono contento perché perché segna cerbi e sentite cosa ho detto io in questa cronaca sentite cosa ho detto io in questa cronaca ragazzi gol regolare quattro di recupero stiamo già nel recupero ragazzi non è fuori gioco è regolare a cerbi al novantesimo adesso tutti dietro altro che provinciali via sta palla sono senza forze ragazzi sono sfinito Luca Romero ragazzi ma questo è la calcio di rigore per la Lazio è calcio di rigore per la Lazio mamma mia Gesù mia è finita ragazzi ragazzi miei è finita la partita è finita la partita ragazzi è finita la partita della Lazio 4 a 3 4 a 3 per per la nostra Lazio che non molla e non ce la faccio più è finita la partita della Lazio